Sì, volevo rassicurare tutti i cittadini che al di là delle immagini così, fatte scientifiche, Borgio è ancora integra. È vero che qualcuno ha detto «Esto sindaco vuole distruggere sto paese», però ci hanno pensato agli artisti. Grazie all'Eva, grazie a Staglione, ci hanno fatto un grande spot e per questo io le ringrazio. Altro che danno le immagini, grazie, fatelo correre.